Credo che, anche se nessuno mi pare, parlando di Scalfari, nelle varie cose che in questi anni sono state scritte su di lui, se nessuno ne ha mai parlato, io penso che il mare sia uno degli elementi primordiali della sua sfida e penso che gli abbia dato il primo sentimento dell'infinito quando da bambino attraversava tutti i giorni la riva del mare con sua madre per andare ai bagni Pirgus di Civitavecchia, quel mare che il nonno dipingeva nei quadri a olio, quello stesso mare, e quel mare come abbiamo sentito dalla prima lettura che osservava la sera dal balcone della sala, seduto da solo sul balcone, in realtà più che osservarlo lo sentiva perché era un mare che si manifestava man mano che scendeva il buio attraverso le sirene dei vaporetti, attraverso le prime luci delle lampare, attraverso le cabine che si illuminavano man mano laggiù in fondo. E lì a Civitavecchia che Scalfari per la prima volta si è posto il problema di tenere insieme, che è uno sforzo che poi ha fatto in modo naturale per tutta la vita, l'abbiamo sentito, tenere insieme la famiglia. Nel piccolo di un bambino farsi genitore dei propri genitori, tira fuori un elemento che attraverserà poi tutta la sua esperienza pubblica, quello della patriarcalità, cioè di farsi carico degli altri, di portarsi dietro tutto l'insieme. E poi naturalmente un altro elemento è quello del mito di Ulisse che si compie non per caso nel mare e nella mente, un mito continuamente rivisitato da Scalfari, la coscienza di un limite, il desiderio che spinge a provarci, la conoscenza che supera quel limite, l'esperienza che si incatena, si lega per sentire il canto delle sirene, la responsabilità congiunta a tutto questo che fa mettere la cera nell'orecchia dei compagni perché i compagni si salvino. Ecco, qui c'è già tutto l'elemento della sfida di Scalfari, la sfida nel senso vero del termine, non è una prova nel senso di un certame, non è nemmeno un duello con qualcun altro, è prima di tutto una partita con se stessi, la consapevolezza che c'è un orizzonte molto ampio da conquistare, sapendo che ogni volta che si arriva nel punto definito l'orizzonte si allontana e dopo una breve sosta bisogna ripartire per un nuovo viaggio. I giornali sono questo in fondo, sono questa sfida, ma lo sono, bisogna fare attenzione su questo punto, lo sono soprattutto per chi li ha fondati, non per chi li fa. Perché chi ha fondato un giornale ha definito l'identità, cioè la radice profonda, la natura, l'anima, il carattere, il modo di essere, quella cosa che i lettori cercano in edicola tutti i giorni. Poi ha individuato il perimetro dentro il quale il giornale si deve muovere e ha individuato anche un percorso verso il quale il giornale si deve mettere in movimento perché deve muoversi come si muove la realtà mutevole che abbiamo davanti. Su questa identità, dentro questo perimetro, in quel percorso, si muove una comunità che all'inizio Eugenio ha scelto ad uno ad uno. C'erano qui alcuni dei fondatori, uno per tutti, io ricordo che Mauro Bene, che è quello che nelle foto dell'inizio di Repubblica sembrava un ragazzino perché era un ragazzino. Ci sono queste persone che generano una sorta di miracolo perché vengono da generazioni diverse, da esperienze diverse, da provenienze diverse e si fondono in un insieme che poi si divide in una serie di sottoinsiemi, la politica, gli esteri, la cultura, l'economia, lo sport, gli spettacoli, che vanno a cercare per conto loro di entrare in sintonia con la giornata e di riacchiapparla. E poi, di nuovo, miracolosamente, l'elemento individuale, personale, addirittura autoriale delle singole persone, si riunisce in qualcosa di collettivo che dà forma al giornale. Tutto questo è tenuto insieme da una cultura di riferimento che noi, quando parliamo tra di noi tutte le mattine, chiamiamo come una formula di Gobetti che vale soltanto per noi, ma per noi vale e che è una certa idea dell'Italia. Abbiamo già visto questa sfida di Scalfari fin da bambino di tenere tutto insieme, ma tenere insieme un giornale, questa complessità, non dipende dall'atto di governo quotidiano di chi lo fa, ma dal lato di nascita, dall'imprinting, dal DNA. Perché soltanto il fondatore ha quello che Simonetta ha chiamato la dimensione della paternità, il soffio dell'inizio, il momento in cui la barca lascia la riva e deve essere un momento di paura e di avventura insieme. conosce il fondatore, il legno di cui quella barca è fatto, perché l'ha costruito. Conosce l'equipaggio iniziale che sarà l'inizio di tutto e poi si ramificherà attraverso relazioni, affinità, conoscenze, condivisioni e si amplierà in un albero infinitamente più ampio. Conosce soprattutto la rotta. Quando io ho cominciato questo mestiere che non conoscevo di persona Scalfari, non sapevo se l'avrei mai conosciuto, ogni volta che pensavo a lui pensavo a un'illustrazione che avevo su un libro da bambino di Gulliver, che si trascinava dietro le barche di Lilliput attraverso dei fili e con questo insieme di fili le portava avanti. Era questa l'immagine che mi veniva in mente. Poi naturalmente un giornale è anche l'evocazione di un mondo, è la ricostruzione della realtà, è soprattutto l'invenzione del contesto. Così ci ha insegnato Scalfari con la Fondazione di Repubblica, ma potremmo già prima dire con l'espresso che era l'evocazione di un mondo. L'invenzione di un contesto, che è quello che mette in relazione i fatti, è quello che consente la vera intelligenza degli avvenimenti, la comprensione dei fenomeni. Se io dovessi riassumere la sfida di Scalfari nel giornalismo, direi che è una scommessa sul cambiamento. Una scommessa sul cambiamento persino in Italia, che anche in questo paese, anche per questo paese era possibile cambiare. E l'ha fatto Scalfari appoggiandosi a due culture, se ci pensiamo bene, che sono due culture minoritarie. La cultura politica della sinistra è il metodo culturale dei liberali. Quell'insieme così particolare, così di minoranza nel nostro paese, che è stato spesso sbeffeggiato dagli antagonisti di Repubblica, con il termine azionismo, di cui quando ragioniamo insieme e prendiamo un caffè al mattino siamo orgogliosi, se non fosse che oggi non costa nulla, è troppo facile dirsi azionisti, mentre invece in passato quel termine aveva un significato che era coniugato alla battaglia antifascista. E' una scommessa dunque su un'Italia che non c'era. Va tenuto presente anche questo elemento della sfida. Un'Italia da evocare, perché è un'Italia da costruire. E certamente i giornali che Scalfari ha fatto, l'Espresso prima, Repubblica poi, sono stati elementi di questa evocazione, di questa realtà minoritaria e tuttavia importante, che ostinatamente Scalfari ha cercato. Ma non perché sono dei soggetti politici, perché soltanto la pigrizia mentale fa dire che un giornale è un partito, quando un giornale è infinitamente meno di un partito, anche se chi lo dice capisce confusamente che è qualcosa di più di un giornale. Naturalmente per fare questa sfida era necessario saper cambiare se stessi e Carlo De Benedetti ha ricordato prima come Repubblica abbia cambiato prima di tutto il giornalismo, cambiando il format, la natura, la sostanza stessa dei giornali. Pensate che bomba deve essere stata nel 1976-14 gennaio un formato di quel genere in mezzo ai giornali tradizionali, che bomba deve essere stata se soltanto adesso, nel 2013-2014, tutti i giornali arrivano con una distanza di anni ad avere quel tipo di formato. Ecco, un giornalismo che ci ha insegnati a non accontentarci alla dimensione frontale dei fatti, qui c'era una tecnica particolare, la capacità di unire per la storia stessa di Scalfari il codice del settimanale del news magazine di qualità come era l'Espresso, come era anche quel panorama, pensiamo al panorama diretto da Lamberto Secchio, da Claudio Rinaldi, col codice del quotidiano. Oggi si può dire che non ci sia un giornalista di Repubblica che non ha in tasca in modo quasi naturale, perché nel DNA che ci ha dato Eugenio il doppio registro, quello del quotidiano e quello del settimanale, che cosa ci ha insegnato? Dicevo prima non accontentarci dalla dimensione frontale degli avvenimenti, a prendere un fatto, grande o piccolo che sia, a prendere una giornata, a prendere la fase che stiamo vivendo, inclinarla sul suo lato critico, fino a tirare fuori quel significato riposto che c'è, c'è sempre, c'è in fondo, dove non arrivano i riflettori della televisione. E' attraverso questa ricerca di significato, attraverso questa ricerca di senso che l'informazione diventa conoscenza, che la conoscenza diventa coscienza e che il lettore diventa cittadino. E' un giornalismo fatto di idee, un giornalismo che cerca sempre la dimensione culturale che c'è dietro i fatti, quello che trasforma un fatto in un avvenimento che lo fa durare, che gli dà una dignità che merita di essere indagata. Una dimensione culturale che è capace di significato, come dicevamo prima. Se dovessi sintetizzare con una formula questo giornalismo di Eugenio, direi che mette insieme, per citare un titolo recente, l'algebra e il fuoco. La normale declinazione delle cose della vita, l'aritmetica, la grammatica normale dell'esistenza, insieme con la passione che la traversa e la fa ardere di significato. E vorrei chiudere ricordandogli quello che gli ho detto ai suoi 80 anni, quando gli abbiamo fatto gli auguri nella stanza dell'ufficio centrale di Repubblica, dove lavoriamo tutti i giorni, dove lui passa tutte le mattine. Questa ricerca continua e questa ricerca continuerà ancora, perché ha al centro quello che Williams chiama lo strano fosforo della vita. E questa credo che sia la pasta vera del giornalismo di Eugenio Scalfari. Grazie.